Dopo la morte di Franca D'Agostino, la 77enne ritrovata in stato di decomposizione, domenica pomeriggio in Viarno a Teramo, emergono nuovi particolari. Sembrerebbe che il decesso della donna sia avvenuto in bagno circa un mese prima e che successivamente sia stata adagiata sul letto dalla figlia di 43 anni, Sara. Quest'ultima, per coprire il forte fetore, avrebbe impregnato d'acqua delle coperte di lana e messo ai lati delle saponette. Solo domenica il cattivo odore sarebbe arrivato in maniera persistente lungo tutto il palazzo e avrebbe portato i vicini a chiamare il vigile ecologico. Da una prima ricognizione cadaverica sul corpo non sembra ci fossero dei segni di violenza, ma si attente l'autopsia che verrà effettuata solo nei prossimi giorni. Nel frattempo la 43enne che viveva con lei dopo la sua fuga di domenica ed essere stata rintracciata dai carabinieri a Giulianova qualche ora dopo è stata portata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Mazzini e la procura sembrerebbe stia procedendo per occultamento di cadavere. Sono in corso anche ulteriori accertamenti, in particolare nell'appartamento sequestrato, sia in bagno che nella stanza, alla ricerca di elementi utili.